Una lettera aperta ai cittadini da parte del consigliere comunale indipendente dell'Associazione Insieme, Piera Romando, per segnalare quanto accaduto nell'ultimo consiglio comunale a San Pietro Altanagro. La maggioranza infatti ha detto no alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria al dottore Angelo Petruccio, viceambasciatore in Nigeria e da sempre impegnato in attività solidali per la popolazione locale. Ieri per la prima volta in vita mia ho abbandonato l'aula consigliare, tanto è stato forte il senso di dissenso per quanto accaduto, si legge nella nota firma della Romando. Angelo Petruccio si è impegnato per far arrivare medicinali, per curare bambini, giovani donne e giovani uomini in Nigeria. Non è di certo la prima azione umanitaria che compie proprio in questi giorni, in collaborazione con l'Associazione Più Insieme, di cui mi onoro di rappresentare, proprio nel nostro paese abbiamo dato vita ad una raccolta di beni di prima necessità da donare a due orfanotrofi del posto. Angelo in questo momento continua ancora la nota, in quel posto non rappresenta solo l'Italia, ma rappresenta San Pietro, rappresenta ognuno di noi e quello che io chiedo al consiglio non è un atto dovuto, ma un atto di sensibilità. Una lettera forte, insomma, quella della Romando, che si dice delusa dalla politica. Dopo ieri, si legge ancora, sono arrivata ad una conclusione che se la politica è questa, allora questa politica non fa per me, perché ho visto persone votare contro questa proposta. Le stesse persone erano certe che utilizzando l'arma della furbizia ne sarebbero usciti a testa alta e avrebbero fatto una figura migliore. E allora no, questa politica non fa per me, perché si sono attaccati alla forma, al modo in cui era stata presentata la proposta. Si sono attaccati a quella stessa forma, a cui loro non hanno mai badato e che le vede attaccate ogni volta. Poi la Romando, nella lettera, si rivolge ai giovani. A voi dico non abbassate mai la testa, combattete per i vostri ideali, dite sempre la vostra, camminate sempre a testa alta, rendetevi liberi al punto da poter guardare tutti negli occhi, siate liberi.